Ciao a tutti e benvenuti. Questo breve video innanzitutto per portarvi i miei cari saluti, perdonate la distanza dal canale, vi rassicuro che comunque periodicamente leggo le mail che mi mandate, le richieste che mi inoltrate, i commenti sul canale, comunque in maniera indiretta io ci sono, ecco la mia presenza c'è. Datemi un pochino di tempo e cercherò di rispondere alle vostre domande. Nel frattempo cerco di sintetizzarle, di racchiudere le tante richieste ricevute in modo da offrire un'unica risposta che comprenda appunto per quell'argomento tutte le domande che mi avete posto in modo tale da economizzare un pochino anche i tempi. Rispondo con piacere alla sollecita richiesta di poter parlare di come impostare correttamente il lavoro in questo capitolo nelle domande che ho ricevuto sono la voce in maschera, la punta della voce, avere una voce naturale, una voce pulita, avere una voce sana, in avanti, molto appunto naturale, togliere quella pesantezza del suono. Queste sono un po' tutte le domande che ho ricevuto. In tanti mi scrivete ma vorrei anch'io avere una voce parlata o cantata, bella timbrata, in avanti, leggera, alta come quella che sento nei suoi video. Si tratta di educazione vocale, poi chiaramente ogni persona ha la propria timbrica. Comunque in linea generale vado a sintetizzare per rispondere alle domande. Dunque quello che consiglio si può parlare di maschera vocale come non parlare di maschera vocale, parlare di posizione del suono, posizione della voce. Questo che cosa significa? che noi dobbiamo fare in modo che la nostra voce parlata e cantata possa essere naturale, mantenga comunque il timbro naturale, un'emissione naturale, pulita, aerea, non appesantita, non storpiata, diciamo, snaturata nella sua bellezza. Come? Le strategie sono tante. Quello che consiglio all'inizio è di utilizzare ad esempio la vocale I. Attenzione perché la I non ne parlo solo io, questo lo riporta ad esempio anche un grande cantante come Krauss, ma anche tanti trattatisti, perché la I è come una sorta di puntino, di sole, una vocale molto anteriore, ci permette di concentrare la voce in avanti dando quella che è appunto la punta del suono, dando l'incisività, quella brillantezza ecco nella voce. Per questo è proprio come una piccola lampadina, un piccolo sole, un piccolo nucleo luminoso che dà appunto luce alla nostra voce, la rende proprio più bella da subito. La I deve essere emessa in modo puro, una I parlata, non un surrogato come sento fare ormai da tanto tempo. I parlata, non I naturale, parlato come appunto nella parola io. Perché snaturarla? Iniziamo questa bella I in avanti. Provate a fare dei piccoli picchiettati con la I. Sentite che è in avanti, lasciatela andare avanti, tenetela piccolina all'inizio, la voce. I, 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 I. Poi immaginate, una volta che avete puntato questa I, immaginate che ribatta qui in questa sorta di puntino, diciamo, ideale, piccola. I, in mezzo agli occhi. e poi tenete questo suono a punta lasciate andare, questo è il vostro timbro naturale ora la I, questa posizione alta in avanti piccola puntata della I In questa posizione noi cerchiamo di mettere le altre vocali come studio. Quindi questo cosa significa? Puntare bene la I, pronunciare una I naturale, non I, I, o strani suoni come i gufi o le scimmie o altre cose che ho visto fare. Dunque. Sentite che io non cambio la posizione. Punto la mia I, trasformo gradualmente, molto lentamente la I nelle altre vocali. Questo è già più avanzato, poi si va per gradi. Io per questioni di tempo cerco di riassumere e di darvi qualche esempio per farvi capire che cosa significa un suono alto, un suono in posizione, un suono cosiddetto in maschera. Significa questo, un suono molto in avanti. E appunto la I ci aiuta. Trasformate la I nelle altre vocali. Senza cambiare posizione. Potete fare anche un vocalizzo che spesso suggerisco con la I e la E per imparare a portare appunto avanti. sentite che la I viene ribattuta dentro la I. I, squillo. e in questo modo con pazienza la voce si educa appunto a stare nella cosiddetta posizione questa posizione della i che appunto è piccolina concentrata in avanti e soprattutto è molto naturale va bene io vi mando un saluto e a presto ciao